Chiusa a foggia la sessantotesima edizione della Viera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia che anche quest'anno ha fatto registrare un notevole applusso di pubblico, ma soprattutto anche l'importanza sia a livello regionale di questo importante appuntamento. Lo arriva dito l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, mettendo in evidenza che il capoluogo Daono preme per un rilancio delle attività, delle manifestazioni viristiche. Il governo regionale apprezza gli sforzi degli enti locali, finalizzato ad un rilancio della Viera e non ha fatto mai mancare le sue azioni di accompagnamento e sostegno. Gli ha fatto eco in questo senso anche la collega a Cucuruto. Intanto, in rappresentanza del sindaco Landella, l'assessore all'ambiente amorese ha parlato della Viera come di un evento che rimane sempre scolpito nella storia e che senza nascondere le difficoltà degli ultimi anni e che guarda con ottimismo al futuro. Mimmo Siena, speciale News.